Per IMDB, è Gianni Aman l'attore turco più famoso. Mande Ercel o Talluna? Secondo IMDB, Gianni Aman è l'attore turco più famoso a livello internazionale. Mande Ercel sta recuperando terreno. Vediamo insieme la notizia. Per IMDB, è Gianni Aman l'attore turco più famoso. Mande Ercel o Talluna? Il famoso sito IMDB ha proposto la classifica degli attori internazionali più famosi nell'industria cinematografica e televisiva. In poche parole, stiamo parlando della classifica mondiale degli attori, sia uomini che donne. Secondo quanto riportato dal sito canald.ro, Gianni Aman occupa il 3.863 esimo posto con un recupero di 247 posizioni. Dunque, il re delle soap turca è il 3863 gradi al mondo, su una base di 11 milioni di attori. Tale posizione pone Gianni Aman come attore turco più famoso a livello internazionale. La vera sorpresa per la Turchia è Mande Ercel. La protagonista di Lovis Inder si trova al 4.69esimo posto, scalando la bellezza di 779 posti. Dunque, Mande Ercel è la seconda attrice turca più famosa a livello internazionale. E si trova vicinissima a Gianni Aman. In poche parole, potrebbe diventare l'attrice turca più famosa al mondo, includendo anche gli attori uomini. Mande Ercel, secondo miglior attrice turca internazionale, la mia opinione. Credo che il piazzamento di Mande Ercel sia prima di tutto meritato. Tuttavia, vorrei far notare una cosa. Kerem Bursin, fidanzato di Mande Ercel, è in prima linea per la difesa dei diritti delle donne. Per me, è una cosa bellissima che una donna turca sia la due grade attrice più famosa a livello internazionale. Ricordo che in Turchia, la posizione della donna non è libera a confronto di quella di una donna europea. Dunque, credo che possa considerarsi una bella soddisfazione. Sinonimo che le attrici turche sono apprezzate a livello mondiale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.